E' nato per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà ed è dedicato a tutti coloro che non si sono fermati di fronte alle difficoltà quotidiane e che lavorano per il bene comune. Il 4 ottobre prossimo, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, sarà il primo vero giorno del dono nazionale, un progetto che è diventato legge dopo un iter legislativo durato circa due anni. E' pensare che in Italia operano quasi 5 milioni di volontari, cittadini attivi, che hanno deciso di impegnarsi, di rimboccarsi le maniche per assumersi delle responsabilità, personali o di gruppo, per fare qualcosa per il bene del prossimo. Questo è un miracolo silenzioso che accade ogni giorno, ad aderire all'iniziativa anche il comune di Cartoceto. E' un titolo, diciamo, la giornata del dono un po' particolare, non inteso come un dono materialistico, ma un dono, il sapersi donare all'altro con qualcosa anche che sia di poco prezzo, ma di tanto valore. Il 4 ottobre tutte le associazioni partiranno dopo aver fatto una fotografia di quelle che sono le esigenze delle persone che sappiamo che sono completamente sole o non hanno nessuno. Per cui in quella giornata molti dei nostri volontari, compresi i ragazzi, andranno nelle famiglie, io compresa, a fare un po' di compagnia, di supporto, di sostegno, anche una forma ludica, perché no, una partita a carte, portarle un dolce. Andremo a trovare le persone che sono veramente sole del nostro territorio, Cartoceto e Lucrezia. Ci sono già anche diverse associazioni che hanno aderito? Sì, le associazioni in modo particolare, quelle più vicine che già operano su questo settore, come l'Avuls, l'Unitalsi, l'Avis, per cui mi sento di ringraziarli indistintamente tutte per il loro operato. Capite bene che il volontariato è sempre un lavoro sotto un po' in sordina, ma che veramente arricchisce, per cui il loro grazie, perché dedicheranno il 4 ottobre a questa prima giornata nazionale del dono. Grazie. Grazie.